13.821.000 è il numeratore, grazie a Vinicio Marchioni. Stiamo andando in onda da quasi due ore, quindi siamo circa alla metà di questa nostra maratona qui su Rai 1 che poi si sposterà su Rai 2. È tempo di dare dei numeri. E che numeri? Allora, posso dire che sono nati un anno prima di me. Nel 1963 non si sono mai fermati. 82 LP confezionati ed è uno dei gruppi più longevi al mondo. In Italia sono tra i primi tre in tema di vendite. Prima ci sono i più, poi ci sono i ricchi e i poveri e poi ci sono loro che non hanno abbandonato e rinnegato le radici beat e hanno sempre sposato la causa musicale con quella sociale. Siamo veramente orgogliosi ed è un privilegio avere qui a Teleton i nomadi. Ho attraversato i deserti per te Ho valicato montagne per te Ed ho versato il mio sangue perché Ho combattuto e sfidato i nemici più forti di me Ho attraversato le fiamme per te Buie e freste soltanto per te Ed ho sfidato le ireireire Pur di tenerti per sempre con me E dentro un cuore puro c'è solo verità Sei come il sangue delle mie ferite Ho attraversato l'inferno per te Oltre la polvere delle città Ho conosciuto vendetta e pietà ed ho affrontato il dolore perché Un altro modo di averti non c'è Attraversato le fiamme per te Attraversando gli oceani per te Ho attraversato i deserti per te Ho valicato montagne per te Ed ho versato il mio sangue perché Ho combattuto e sfidato i nemici più forti di me Ho scritto frasi nel fuoco per te Grazie a tutti Grazie a tutti